Grande Fratello VIP. Giuseppe Garibaldi. Tra lacrime, gelosie e un futuro incerto. La gazzetta del gossip vi spalanca le porte sul tormento che attanaglia Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello. Ma prima come sempre vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e mettere un mi piace al video, questo ci consentirà di lavorare sodo ancora di più e di fornirvi sempre le ultime news dal mondo del gossip. Un uragano di emozioni travolge il geffino. Lacrime, accuse di tradimento, gelosie roventi e un profondo senso di smarrimento. Le lacrime a Letizia sono un fiume in piena. Mi sento usato, solo e senza energie, confessa Giuseppe con il cuore spezzato. Il fantasma di Beatrice aleggia nella casa, accusata da Beppe di averlo illuso solo per ottenere la vittoria. L'ingresso di Alessio non ha fatto che alimentare le tensioni. Garibaldi lo vede come un rivale, invidiando la sua sintonia con Greta e Perla. Non regge il paragone con me, sbotta Beppe, in preda alla gelosia. Ma il pubblico è diviso. Alcuni sostengono Beppe, altri lo criticano aspramente. C'è chi lo considera una vittima, chi un manipolatore. Cosa riserva il futuro per Giuseppe? Riuscirà a risollevarsi da questa crisi profonda e a trovare la serenità nella casa? Non solo. Nuove ombre si addensano sul suo percorso. La nomination incombe e il suo destino è nelle mani del pubblico. E voi cosa ne pensate? Giuseppe è davvero sincero o sta recitando una parte? Diteci la vostra nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere neanche un frammento di questo GF VIP ricco di colpi di scena. A presto!